ciao a te siete su Scabinabull come mai tesla è crollato ieri del 8.6 per cento sigla cerchiamo di capire insieme cos'è successo nel frattempo ricordatevi di mettere un like iscrivervi al canale ok stiamo andando verso quota 20.000 manca ancora un po però insomma dai manca poco manca poco allora meno 8 e mezzo sta per aprire oggi fra poco 12 minuti aprirà sta facendo quasi più 3 quindi sta recuperando ma comunque vedete il grafico ha rotto questo livello e quindi oggi anche se rimbalza comunque rimane molto negativo dobbiamo fare attenzione adesso vogliamo tecnicamente a quota 200 perché poi a 200 abbiamo anche l'EMA 200 che questo non deve essere rotto che comanda guardate da quanto da quanto comanda pericolosissimo ok la stessa la 50 l'ha già rotto è iniziato a sporcare sopra sotto ma comunque ha iniziato a avere dei problemi a 200 sarebbe un disastro ok qua abbiamo fatto una bellissima salita con l'EMA 10 guardate che roba da quando era sopra l'EMA 10 ha comandato addirittura facendo di fare un più 1300 per cento l'EMA 10 che roba però avevo proseguitato più 2000 rotti ok come mai questo perché tesla appunto cresce del 50 per cento all'anno credibile ma cresce del 50 per cento l'anno e questo ha fatto sì che appunto potesse essere arrivato addirittura ad essere il titolo che è più più grosso al mondo quotato poi è stato per poco tempo ma comunque è riuscito ad essere il numero uno o comunque fra sicuramente fra i più importanti e ieri nonostante il suo crollo avrebbe dovuto far crollare il mercato ma questo meno 8 l'ha fatto con apple che faceva più 3 apple più 3 amazon più 2 e mezzo microsoft più 3 e mezzo e l'indice ieri è andato su e quindi è bruttissimo segnale quindi cerchiamo di capire perché appunto quindi stavo facendo leggere questo è uscito fuori il q3 quindi il terzo quadrimestre ed è venuto fuori che ha prodotto ha prodotto 365 mila auto ma consegnato solo 343 che lui dice non dice che è un problema appunto di costi di energia è difficile difficile poter organizzare per spedire tutte queste auto eccetera sono delle problematiche quindi li hanno consegnate meno di quello che hanno fatto ok ma il mercato non ci sta più credendo perché non ci sta più credendo cioè pensa che in realtà è la domanda che sta scendendo ok per questo è crollato perché crede questo perché tesla è sempre stato sopra a un valore che si chiama 100 cioè al aver consegnato più aver consegnato tutte le auto che arrivavano che venivano prodotte quindi in questo caso ho dovuto consegnare i 365 mila in più aumentava diciamo la lista d'attesa e invece è già il secondo quadrimestre anche il q2 quindi questo in questo quadrimestre è uscito fuori questo valore del 94 94 per cento significa che ha consegnato appunto meno di questo 100 ok questo valore che è che è 100 quando è sopra significa che c'è più domanda di quello che viene costruito sotto 100 invece significa che è e sta scendendo questa cosa ok quindi praticamente vengono prodotte più auto di quelle che vengono effettivamente richieste ovviamente da un da un titolo che è andato to the moon non va assolutamente bene perché appena si inciampa il meccanismo ricordiamo che ci che questo ha una capitezza una capitalizzazione molto più di bmw audi mercedes messi insieme ok quindi capiamoci che qua vale così tanto perché danno per scontato che arriverà addirittura a costruire addirittura si vale più di 10 milioni di auto l'anno salendo del 50 per cento all'anno qui se qualcosa non va bene in questa traiettoria questo prezzo non ha nessun senso bene per questo che questo dato è molto importante è importante capire questa cosa del 100 quindi in questo quadrimestre cioè il q3 siamo scesi al 94 quindi eravamo sotto questo livello di 100 il q2 eravamo a 92 quindi il primo segnale era quello ricordiamoci anche che io ho fatto poi questo video parlavo di elon musk qua che ha venduto bitcoin disastro bitcoin elon musk ha venduto ok che ha venduto il 75 per cento aveva già venduto prima comunque gli è rimasta una certa percentuale ma in questo caso aveva venduto il 75 per cento per far cosa per coprire i debiti ovviamente essendo una società che comunque sta crescendo tanto sta costruendo tantissimo per poter costruire più automobili possibile per star su questa su poter crescere del 50 per cento all'anno ma ovviamente costa tanto per coprire i buchi ha venduto è stato costretto a vendere bitcoin e questo ha fatto sì che poi bitcoin crollasse eccetera eccetera poi lui aveva fatto questa grande scommessa dicendo che appunto comprando un miliardo e mezzo di bitcoin invece tenere lì fermi ha detto sicuramente sarebbero saliti più dell'inflazione invece si è preso i suoi bel il bel schiaffone e poi si è trovato purtroppo a dover coprire dei buchi quindi fino adesso tesla non era crollato perché copriva i buchi vendendo bitcoin ma sono due quadrimestri che appunto sta venendo fuori questo dato sotto 100 quindi praticamente sta costruendo più macchina di quel che vende lui ovviamente dice che non è questo è semplicemente un problema logistico di riuscire poi a spedire poi aumentati i prezzi eccetera eccetera ma è così ci dobbiamo credere o non ci dobbiamo credere quindi cerchiamo di capire se è il caso di crederci o no allora innanzitutto tesla ha fatto un'altra cosa che ci fa un po' preoccupare almeno a me fa un po' riflettere è uscito fuori al model y ok al model model y è quello che per loro è il suv quindi è il suv di tesla che fra l'altro ovviamente sta piacendo sta vendendo più della model 3 e ha tirato fuori model y meno costoso di sempre quindi dice ah wow fantastica bella notizia nonostante questa cosa che appunto ricordiamoci ha fatto questo modello che costa poco poco comunque 50.000 euro ma costa 15.000 euro in meno rispetto al model y normale questo è praticamente solo trazione posteriore rear wheel drive quindi solo trazione posteriore hanno fatto un modello super basico per scendere col prezzo costa 15.000 euro in meno rispetto a quello normale e 10.000 euro in meno rispetto al model 3 addirittura infatti nessuno diciamo sta comprando più il model 3 sta andando tutti su model y che comunque è più grande eccetera e meno in Europa sta piacendo tanto ma nonostante questo la domanda non è esplosa ok quindi ci aspettava ci si aspettava questo ma soprattutto sta abbassando i prezzi nel momento in cui l'inflazione sta andando alle stelle quindi cosa succederà cosa succederà ai margini avrà più margini o meno margini ovviamente avrà meno margini molto probabilmente avrà meno margini quindi questo è un prezzo in cui lui riesce a venderlo perché lui vuole mantenere questo più 50% l'anno lui vuole continuare a crescere al 50% l'anno altrimenti qua il titolo crolla di brutto quindi ha dovuto fare questa cosa qua ha già avuto bisogno di vendere bitcoin per coprire i buchi secondo voi con quello che ci sta per succedere quindi i dati che noi vedremo nell'ultimo quadrimestre quindi lì vedremo i dati brutti di tantissime società e quindi molto probabilmente anzi assolutamente anche tesla avrà dei dati molto più brutti del previsto per tutto quello che è accaduto a meno che appunto non accade qualcosa di eccezionale per quanto riguarda la guerra ma altrimenti ragazzi qua butta malissimo perché abbiamo meno soldi da spendere no? tutto costa di più quindi anche poter avere un prestito per comprare la macchina eccetera costa tutto di più ma soprattutto le persone hanno meno soldi per poter comprarsi le moto nuove quindi il Q4 rischia di essere un disastro il Q1 2023 rischia di essere un super disastro e lui non ha più soldi non ha più bitcoin da vendere cioè ha rimasto solo una piccola parte che sicuramente venderà l'avevo già detto in quel video andatelo a vedere andate pure a vedere questo video che ve l'ho già detto prima che avrebbe venduto e vedrai che se non ha già venduto venderà sarà costretto a vendere perché appunto il Q4 e il Q1 2023 faranno schifo ragazzi appunto almeno di un miracolo a livello lì con la guerra con i russi e l'Ucraina ma altrimenti sarà un disastro e lui non potrà più coprire questi buchi e quindi dovrà uscire fuori con dei dati ancora peggiori di questi quindi il 94 di questo Q2 scenderà ancora magari andrà verso 90 addirittura quindi avrà costruito ancora più macchine la domanda sarà ancora inferiore e in più provando a tenere su le vendite avrà dei margini ancora inferiori e che farà sì che il debito sarà ancora più alto e che non potrà coprire che per due volte ha nascosto il buco che in realtà stava facendo e questa volta dovrà dire ragazzi c'è un buco stiamo andando in rosso stiamo abbiamo meno richiesta stiamo andando in rosso è emergenza ok quindi chiariamoci anche perché se noi poi andiamo a vedere il sito della Tesla cioè comunque queste macchine sono praticamente uguali Model 3 Model S da quando è uscito è praticamente uguale si è migliorato un attimino è vero tecnologico ha sempre fatto dei passi avanti ok software eccetera ma come linea la Model S di adesso è quella di quando è uscito è cambiato ben poco a livello estetico la Model 3 da quando è uscito è cambiato poco a livello estetico ok è migliorato a livello tecnologico software eccetera ma è refrigerato questa è una macchina nuova io che sono io mia moglie voglio solo che compro dei SUV io questo SUV qua non lo comprerei mai cioè un conto è il Cybertruck un conto è il Cybertruck che comunque è discutibile e comunque non l'hanno cioè hanno detto che l'avrebbero prodotto ma Nisba non si sa ancora una data non si sa ancora niente quindi non c'è ancora e per adesso ci sono solo questi modelli qua che sono praticamente gli stessi cioè è sempre la stessa roba e quindi piacerà continuerà a piacere loro comunque a livello tecnologico sono ancora avanti ok Porsche si è avvicinato tanto le altre case si stanno avvicinando tanto ma hanno ancora un vantaggio tecnologico ma hanno solo questi tre modelli ok è difficile poi creare altri modelli e quindi vedremo in più l'altra notizia che può avere può essere può aver avuto un così può aver impattato è anche questo che venerdì hanno presentato quello che doveva essere Tesla Bot cioè questa roba qua che ti veniva in casa ti poliva i piatti ti sistemava la casa ti tagliava l'erba ti aiutava in casa tutte queste robe qua hanno anche doveva costare una ventina tipo 20.000 euro quindi era un qualcosa di incredibile di fantastico ok con 20.000 euro riusciva a avere qualcuno in casa la tata in casa ok con 20.000 euro e invece reality check cos'è che è uscito è uscito sta roba qua cioè non è anche arrivato per i fatti suoi l'hanno dovuto spingere cioè guarda che roba l'hanno dovuto spingere cioè questa è la presentazione mondiale del loro robot l'hanno dovuto spostare non è arrivato neanche per i fatti suoi e niente ha salutato questo è quello che sa fare fine questo attaccato a un palo fa sta roba qua quindi siamo ben lontani ragazzi delusione totale che doveva essere sta roba qua che camminava entrava in casa ti puliva ti sistemava ragazzi non c'è non so se ci sarà fra 10 anni 5 anni non si sa ma oggi non c'è assolutamente quindi secondo me anche questo bruttissimo dato fatto sta siamo messi così ok però cerchiamo di capire anche un'altra cosa e cerchiamo di capire anche un'altra cosa Elon Musk che fra l'altro io amo ok questo è Elon Musk questo è un personaggio incredibile ok ho preso non a caso questo queste foto qua ovviamente non è nelle sue migliori condizioni ma questo ti fa capire che lui è un migliore lui è stato l'uomo più ricco al mondo per un certo periodo è stato proprio l'uomo più ricco al mondo questo personaggio qua guardate che abbronzatura voi direste mai che questo è stato l'uomo più ricco del mondo comunque è fra i più ricchi al mondo questo è un lavoratore incredibile cioè lui nelle sue fabbriche lui ci vive lui quando ha delle fabbriche da portare avanti perché visto che è un problema dietro l'altro è difficilissimo riuscire a creare delle fabbriche che funzionano che riescono appunto a incrementare la produzione del 50% è un casino lui è così bianco perché lui lavora lui dorme proprio dentro la fabbrica ragazzi cioè fa delle cose incredibili ok quindi è discusso perché dice una cosa ne fa un'altra fa un tweet si torna indietro dice che compra twitter poi non lo fa più dice che compra bitcoin perché è meglio dell'inflazione poi crolla poi è costretto a vendere insomma fa queste cose qua però è un grandissimo lavoratore ragazzi questo è un miliardario che prende il sole un giorno l'anno perché lui lavora veramente ok è un grandissimo lavoratore poi è un personaggio veramente incredibile cioè lui ha lui ha nove figli nove figli e questo è il nome di uno dei suoi figli ragazzi ha un figlio che si chiama così vi rendete conto quindi è un personaggio incredibile ok lui lui sta organizzando per naso la luna sta organizzando tante cose ok è veramente un personaggio fantastico molto discusso ovviamente però non è facile non è facile riuscire a fare quello che ha fatto ok già quello che ha fatto lui rimarrà nella storia ok già solo per questo per quello che ha fatto lui ha cambiato il mondo dell'auto quindi lui solo per quello che ha fatto fino ad oggi anche se Tesla non riuscirà a dominare il mondo delle auto anche se adesso non riuscirà più le altre case atomistiche recupereranno e lo metteranno da parte rimarrà una nicchia anche se fosse e quindi magari il prezzo crolla e amen ma comunque lui ha fatto la storia ok è comunque un personaggio pazzesco io quando posso ascolto le sue interviste cerco di capire un attimino perché è veramente un personaggio strano poi questo accento sudafricano particolare che è fantastico però solita storia fra due settimane il 15 se non sbaglio il 14 il 15 ottobre frò al webinar come holdare consapevolmente e qua capirete che non dovevi spiegherò perché non dovete innamorarvi di una società ok non si holda a vita ok si holda col trend a favore quando il trend non è più a favore è inutile non c'è bisogno di innamorarsi di un qualcosa ok e questo potrebbe essere il momento già comunque con la rottura dell'EMA 50 c'era da preoccuparsi però adesso dati la mano ragazzi guardiamo avanti dati la mano potremmo avere dei grossi problemi grossi problemi quindi fate attenzione non di sicuro non iniziate col buy the dip ok perché la gente mi parla di pack dover comprare con delle cose è pack si inizia un pack quando inizia un trend quando inizia un trend si inizia un pack non buy the dip appena vedi una candela rossa buy the dip e inizi un pack non funziona così ok poi ve lo spiegherò nel webinar holdare consapevolmente detto ciò quindi fate massima attenzione perché il prossimo quadrimestre rischierà di prendere il primo schiaffone veramente pesante uscendo addirittura con dei dati con col buco che sta iniziando a fare ma soprattutto io farei ancora più attenzione se la guerra dovesse durare tutto l'inverno il Q1 del 2023 rischia di essere un dato pesantissimo per Tesla e non solo non solo Tesla ovviamente ma per Tesla soprattutto potrebbe essere un grosso problema quindi vediamo fate molta attenzione e niente scrivete nei commenti scrivete nei commenti cosa pensate iscrivetevi a YouTube lasciate il like due canali Telegram Discord Twitch Instagram alla prossima ciao